Ecco i 3 gadget che uso tutti i giorni per creare content Il primo è letteralmente il mio migliore amico Il mio treppiedi lo porto ovunque con me È tascabile, ci metto un secondo ad aprirlo E non costa niente Ne ho testati tanti ma questi sono letteralmente la mia vita La cosa pazzesca è quanto è alto Cioè io sono 1,68 e mi arriva qua E poi ci metto un secondo a richiuderlo Apri, tiri, chiudi Sotto c'è una rotellina per la base che devi girare Tiri su e sei pronto a partire Guardate i chiusi che carini La seconda cosa che amo di più di tutte È la mia ringla e c'è una differenza assurda Mi ha cambiato la vita Questa costa un pochino di più ma è veramente un investimento Ve la faccio vedere La cosa più figa di tutte è che è letteralmente il mio sole Nel senso che è gigante Cioè ha 3 pannelli chiari e uno scuro L'ho cambiato io ma potete fare quello che volete Ha il suo treppiedi qui e poi ha la sua base Che può essere regolata E qua sotto c'è un piccolo pirulino con cui regoli Anche l'intensità della luce Viene con la sua borsa per portarla un po' ovunque Anche se è un po' pesante Dentro ci stanno i ricambi di luce Se voglio aggiungerne un'altra calda Mi basterà staccare questa e aggiungere questa Ma non scherzo quando dico che mi ha cambiato il content Cioè ormai faccio tutto con questa Anche se il tempo fuori fa schifo ho il mio sole Il terzo gadget è questa piccola scatoletta Che ho trovato letteralmente a niente su Amazon Che si apre prima così E poi così Me l'ha fatta scoprire la mia migliore amica E serve a mettere il telefono in questo senso O anche in questo senso Non so se ricordate il mio tutorial In cui spiego come in aereo per guardare i film E metto il telefono nel sacchetto con la cover E l'attacco al tavolino Un casino Ormai assolutamente no Faccio solo questo Lo metto qua sopra Adoro La cosa figa è che si alza E c'entra pure l'iPad Perché si alza anche qua sopra Io lo uso anche per creare content Perché questo qui per quanto è alto Purtroppo non è buono Per quel che è basso Cioè quando devo fare qualcosa Per terra o sul tavolo Invece questo Mi risolve i problemi Metto il telefono E filmo Se ti interessano Trovali tutti sulla mia lista Amazon Che sta sia nella mia via di Instagram Che in quella di TikTok Baci